Siamo con Bà, intanto questa settimana non si gioca, una settimana vissuta come? Diciamo bene, peccato che non si gioca perché stavamo facendo bene in ogni due partite, quindi sarebbe un bene continuare su questo lancio. Quindi secondo te non giocare non dà continuità? Non direi che non dà continuità, però non va bene per noi perché c'è solo la fila che stavamo facendo bene, quindi il meglio per noi era continuare a giocare perché stavamo facendo bene. Come stai vivendo questo momento a livello personale? Diciamo bene, ma tutto come tutti i compagni perché va bene che non sto giocando scolare, però l'importante è il gruppo che vince, quindi sto sempre a allenarmi bene e scendo il campo quando hai visto richiamo in causa. e fai quello che devo fare. Hai sottolineato la parola gruppo, una parola gruppo che si sente molto perché effettivamente lo è. Certo, perché può essere anche il Real Madrid, però se la squadra non fa gruppo non si vale a nessuna parte, quindi che gioco ti trovare, che sei in panchina bisogna sempre dare una mano alla squadra. Due vittorie, una più bella dell'altra? Bellissimi perché avevamo bisogno di punti, queste due partite ci hanno dato molta forza, quindi speriamo di continuare su questo lato. Ora arriva la partitissima con il Ravenna. Vabbè, il Ravenna io non direi la squadrone, la squadra come tutte le altre. Rimini qua li abbiamo messi in mezzo, abbiamo messo in difficoltà alla fine, abbiamo fatto più qualissimi errori, quindi ci arrivocheremo con loro e cercheremo di vincere sicuramente. È partito il totocampionato, Rimini o Ravenna? Io li definiti. Grazie.